Buon faccio a tutti ragazzi, qui è quello che è bentornati in un nuovo video. Oggi siamo di nuovo con Peggle, ma questa volta ragazzi, questa volta, si farà l'avventura. Siamo con l'alieno, perché l'abbiamo appena sbloccato, quindi vediamo che riusciamo a fare. Allora, l'avventura consiste nel prendere tutti i rossi praticamente, dobbiamo prendere tutti i rossi, al discapio del... di quanti punti facciamo. Mi pare che... esatto, è la supernova, quindi se prendo... esatto. Il potere dell'alieno è quello che... Ok, scusate. Il potere dell'alieno è quello che ti fa scoppiare tutto quello che c'è attorno al verde che ha preso. Sentite quando fa sto rumore, vuol dire che ha preso tanti punti. Holy shit, bro. Allora, cerchiamo di fare... No, non ho preso il verde. Cerchiamo di fare prendere tutti i rossi, perlomeno. Buono, vai che lo prendi... Dai! Abbiamo ancora otto palli, dobbiamo cerchere di prendere tutti i rossi, quindi... Eh, stronzo, penso l'altro. Dai che lo prendi su quell'altro. Ah, peccato, peccato. Sbatto qua per farlo andare qua sotto, però non credo che ci vada. Dai che lo tocchi. Buono! Dai che tocchi a quello... Ah, peccato. No, dai, stava scendendo. Oh! Oh! Ole! The god, ragazzi. Sì, vabbè, ma dai, sono stronzo, però. Oh, my bitch. Quanto ne mancano cinque palli, ma in teoria dovremmo prenderla. Cioè, a questa estrema la dovremmo fare, in teoria. Quello a cui punto ora io non mi importano i punti, voglio fare solo... Che culo. Voglio fare solo... Sto culo contro il battito, però non mi capita mai. Solo tutti i rossi voglio fare. Ho tre palle. E avrà... Buonissimo. Ecco, la prendo così la faccio. Signori. Pure centomila, non vuol dire, eh. Ah, mi arriva strano. E invece, signori... Ragazzi, quando non c'è nessuno contro, cane e lupo è il più forte del mondo. Livello successivo. Mi pare che così sono in quattro stage, quattro livelli. Bello. Molto bello. L'unico che doveva prenderlo gli affresi. Oddio. Che jella. Dovevo cercare di farlo sbattere qua e qua. Buono. Vai che prendi anche questo qua sotto. Che jella, cazzo. Cerchiamo di liberarci e prende quello. Ragazzi. Ecco la loro quest'altro. Fisica. Della... Dai. Buono. Ma io di niente. No, prendiamo questo verde qua, anche se... E god. Dai, questo verde. Oh. Che culo. Dai che prendi anche quello? Quello sopra. Oddio. Che culo di merda. Buono. Cioè, guardate, guardate. Ragazzi. Troppo forte. Ci abbiamo quattro palle. Cazzo. Che culo. Che culo. Vai, dai, che la prendi. Merda. Abbiamo due... Questa e dopo altre palle. Facciamo così. Vai a prendere anche questa. Boom. Dai, god. Dai, è andata. Oh. 80 mila. Vanno benissimo. Dai, però un altro, un altro. Cerchiamo di completare ogni parte di avventura un livello, ovvero uno stage, e sbloccare un nuovo personaggio. Siamo al terzo stage. Io penso che vengo più di quegli arancioni. Grazie, però, non l'ho detto, ma l'ho sopeggiato un po'. Boom. Ho preso tutto. Diventerà una di queste, diventerà. Oddio, oddio, oddio. Poco. Non riesco a fare una cosa de... Buono, c'è da una cosa in più. Cerchiamo di levare subito sto rosso qua. Dai, che la vengono. Oh, peccato. Io direi anche di levare subito questo rosso qua. Ci dobbiamo levare i prossimi da soli. Che stanno da soli. In modo tale che poi li ha... Cerchiamo di prendere gli altri tutti insieme con questa abbastanza facilità prende. Buono, questo tipo questo rosso non l'avevo visto, però è lo stesso. Va bene, ci sta. Vediamo questi tre. Che culo. E questo abbiamo fatto tipo una cosa del genere. Ora, torna. No, niente. E allora lo prendiamo così. Ricorda, questo qua. Va bene, manca l'ultimo. Che faremo col battimuro. Ci lecca. Ci lecca a me. Ora. Ma cazzo. Ma come ultima palla? Ora. No. No. Oddio, dovrei andare a stare qua? The God, signori. Che c***o. Allora, questo in teoria dovrebbe essere l'ultimo livello. In teoria. E poi ci dovrebbero dare un altro... Un altro... Un altro personaggio. Ora. Devi prendere quel c***o di rosso. Questo rosso. Non era tanto difficile. È l'uomo, si è blu. Oh, perfetto. Ah, io venendo col verde. Se mi scoffia... Ce l'ho fatto tutti. Ma forse devo calcolare pure il fatto che potresti entrare là. Non l'ho calcolato. Ora. Buono. Buona. Non l'ho calcolato un'altra volta. Che c***o di merda. Forse non è quello che volevo fare. Ragazzi, sta botta mi sacca la festa estrema. Non ce la facciamo, eh. No. Forca merda. Dio. Madonna, Dio. Cazzo. Non ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ah, ultima palla. Come c***o io ho avuto il colo di l'altro. Ora. No. Abbiamo sbagliato il tempo. Eh, ragazzi, ma prendo tutti i rossi. È difficile questo. La fa prima. Volevo cercare di prendere più rossi possibili. Aspettate. Aspettate. Ora. Ci hanno dato un'altra palla. Ho preso tantissimi rossi lì dentro. Intichiamo di fare una cosa del genere. No, ho sbagliato. Che c***o. Buono. Buono, va bene. Abbiamo lavato tutti quelli là. E va bene quelli li prendiamo dopo. Intanto cerchiamo di fare... Entra la palla qua dentro quando stai in una questione di scivolo. C***o! Eh, tocca fa un attimo. Cos'è? Qua. No, ragazzi. No. 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 Poco. C***o. Ma la fai più pensare. Ah, questi due le va per forza. se non puoi. Che c***o. Allora, direi subito delle palle questi. Così dopo ci troviamo la palla arancione easy. Che c***o. Inoltre, non dobbiamo arrivare a questo. Per tirare la palla. Uh, uh, decoda. Ragazzi, troppo forte. Ora. Guarda, guarda che tiro, guarda che tiro. Questo ora. Allora, abbiamo abbastanza palle per prendere una a una. Tutti. Facciamo così, direi. Festa estrema pure, c***o. 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 Dentro così, proprio. Tanto dietro c'è il mio riflesso. C***o, Daniele. Livello successivo. No, un altro livello? Tieni i periferi film in il gran finale. Forse è l'ultimo. Non lo so. C***o, questo è tosto. Volevo prendere l'arancione, invece non l'ho presa. Ma perché c***o l'hai riuscito? Dai, scendi da là. Aspetta, aspetta, aspetta. Devo far sbattere sull'arancione. Ora. Buono. Mi importa solo se prendi l'arancione. Non mi importa che fai tanti punti. Buonissimo. Fammi escludere sto c***o. Dov'è? Grazie. Giusto per fare qualche punto, così. Dobbiamo far sbattere a cura? Perfetto. Dai, decode. Che palle. Dobbiamo fare la stessa cosa di qua. Non l'ho preso? C***o. Perché riesce proprio quando tocca? Prendi anche l'altro. No, davvero ho lasciato un'arancione. Devo andare a palla a bonus, se no sta battendo. Buono, 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 buono. Che culo. Io voglio prendere quell'arancione però. Oh, grazie a Dio. Do you serious, mate? Mi ha levato solo due palle. Oh, grazie. Sono un coglione. Andiamo subito qua a questo. Buono che entrano dentro, vai. Ma perché riesci subito? Ma che c***o? Io dovrei fare la stessa cosa qua. Liberiamo direttamente i tune. Almeno, il problema è subito rossi. Il problema è che prendo sempre il rossi. Ma non lo comprendo. No, se prendo questo, mi dovrebbe prendere anche tutti quelli da dentro. Perché mi devo levare dal c***o. Oh, buono. Perfetto, così va benissimo. Dai, scendi. Non va tanto bene, così. Lo farei imbazzare, lo su qua. Eh, doveva rientrare là dentro. Forse col c***o. Col c***o, diciamo, fa qualcosa. Niente. Buono. Ok. Merda, no. Lo scullardo sembra riuscito a prendere un altro, però non è quello che ve lo fai io. Ma perché non me lo prende? Ma scherzio? Vaffanculo. Non capite che così mi fa prendere il c***o grosso. Aspetta, aspetta. Mi percate per prendere. Solo tre palle. Allora? No, ho felato. Ho felato. Oddio. 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 Come ho fatto un po'? No, no, così, no, così. Regà, non c'è la faccio. Cioè, sapete dove ho cercato? Dove ho cercato a fare? No, non ci avrei fatto lo stesso. Ragazzi, rifacciamolo. Ragazzi, ascoltatemi. Questo livello sarà fatto. Nel bene o nel male. Vedete, subito, dove ho trovato? L'ho fatto mentre c'eravano i rossi qua, almeno se ho trovato i rossi qua. Eh, se l'avessi preso quel rosso sarebbe stato un po' meglio. Un po' meglio. Buono, mi hanno dato un bel quantitativo di rossi. Magari se non facessi si tiri di merda. Eh, quello va qua. Non uscire, rientra qui dentro. Mi aiuta niente. Vai verso sinistra. Prendi quella... Oh, che cazzo. Devo fare il balzare questo di qua. Guarda. Magari non dovrei andare di là. Bene. Ma rientra? Buonissimo. Qua. Dobbiamo levare tutti i rossi che ci stanno qua dentro. Vabbè, se rimane quello non è un problema. Buono, 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 buono. Se rimane questo non è un problema. Faccio così, lavo questo, oddio. No, togli auto le vende. Go diretto, va bene. Dai che forse è l'allio rosso. Quattro palle, c'ho tre... Quattro palle, compreso questa. Ora. No. Sto a fommare... Dai, per cazzo. Perché solo una? No, niente. È andata, ragazzi. Questo livello... Oddio. Tutto calcolato. E abbiamo sbloccato, ragazzi. Il gracchio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like. Se vi fa commentare, se vi fa condividere. Anfa, ciao a tutti, ragazzi. Da Cane Lupo. Bella. 輪 rice theo la prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.